E tu dovresti essere una punizione? Ho smesso di stare con gli uomini sbagliati. Il prossimo con cui vada a letto me lo sposo. Tu mi vuoi sposare? Allora non mi avrai mai. Quello che puoi avere è il mio aiuto. Sono la nuova cronista di Nera di Sicilia Web News. Un'amica giornalista, come hai visto, può esserti utile. Scordatelo. Pensaci bene. Hai appena perso il tuo informatore. Hai capito che la sinestesia può esserti molto utile. Ok, facciamo una prova. Ma se non funziona, non si fa niente. Ci sto. In cambio voglio sapere una cosa. Io? Che colore sono? Allora? Blu. Come tutti i maschilisti, egocentrici, infantili che ho conosciuto nella mia vita. Ah. Grazie.